Estorsione a Clementino, neomelodico nei guai. Volevano costringerlo a una collaborazione artistica. In manette il neomelodico e due suoi amici. Per mesi hanno chiesto soldi e minacciato famiglia, staff e rapper. Salerno, le nuove sfide per la città del futuro. A Palazzo Sant'Agostino il confronto sulla rivoluzione urbanistica e il rilancio del turismo, iniziativa a cura della Fondazione Lumina e del gruppo Otto Media. La corsa sindaco di Napoli, Lettieri recupera, perde punti De Magistris che però resta primo nei sondaggi. Crescono il candidato del centro-destra e la Valente, lontano Brambilla, ma l'astenzionismo resta il primo partito in città. La nonna del piccolo Antonio, mia figlia innocente, continuano le accuse tra i palazzoni del Parco Verde di Caivano. La nonna di Antonio scaggiona Marianna Fabbozzi. Intanto il presunto orco di fortuna denuncia i suoi aggressori in carcere. Dramma lavoro in Irpinia, tra scioperi e proteste, elital e diagnostica medica, vertenze aperte, cassa integrazione e stipendi non arrivano da mesi. Altissima l'adesione allo sciopero nella struttura del gruppo Malzoni. Strade colabrodo nel sagno, la rabbia degli automobilisti, l'ANAS chiude ancora la sanitica per una frana. Sulla Telese Caglianello i cittadini stanno organizzando un corteo di protesta contro il limite di velocità a 60 km orari. Erano i titoli dell'edizione delle 14 di 8 Channel News in diretta dagli studi di Avellino. Ben ritrovati. In apertura la tentata estorsione al rapper Clementino. In manette il neomelodico e due suoi amici per mesi hanno chiesto soldi e minacciato famiglia, staff e rapper. Volevano costringerlo a collaborare artisticamente. Sentiamo i dettagli in apertura. Voleva a tutti i costi che il rapper Clementino avviasse una collaborazione artistica con lui ma lui non cedeva e così lo minacciava pretendendo anche dei soldi. È finito in manette nel capoluogo campano un cantante neomelodico di Palma Campania su ordinanza dell'autorità giudiziaria di Nola insieme a due complici che lo spalleggiavano. Le accuse per i tre sono minacce e tentata estorsione. Li hanno arrestati gli agenti della polizia di Napoli. Secondo quanto emerso dalle indagini il cantante sarebbe stato costretto anche attraverso minacce a lui ai suoi familiari e ai membri dello staff ad avviare la collaborazione artistica con Vincenzo Carbone il cantante neomelodico appunto di Palma Campania che figura tra gli arrestati. Il rapper Clementino non ha mai ceduto alle pressioni del neomelodico di vent'anni che canta con il nome di Enzo di Palma. Per Carbone le altre due persone coinvolte nel tentativo di estorsione sono stati disposti gli arresti domiciliari. Qualche mese fa avevano anche bruciato l'auto dell'artista che quest'anno ha partecipato al festival di Sanremo. Clementino aveva postato le foto su Facebook commentando che forse era responsabile del gesto qualcuno scontento di una sua risposta. Eccomi qui visto il lavoro che faccio non sono abituato a stare zitto piuttosto mi faccio ammazzare. Aveva scritto sul social Clementino. Clemente Maccaro classe 1982 è nato ad Avellino ma di casa a Camposano fiero delle radici nolane che lo legano a Giordano Bruno ma molto meno di chi gli lasciò sotto casa. Un messaggio che brucia molto più di quanto sia successo alla mia macchina scrisse nel posto. Il social raccolse tutta l'amarezza dell'artista. Che cosa devo fare? Devo scappare ad abitare lontano per scappare da questa giungla? Si chiese Clementino che anche dopo il successo non ha mai voluto abbandonare il suo paese. Una bomba rudimentale è stata fatta esplodere fuori la sede di Equitalia a Giuliano. Una scritta NFO in rosso che sarebbe l'acronimo di Nuova Famiglia Organizzata è stata rinvenuta dagli agenti del commissariato di polizia di Giuliano Diretti dal primo dirigente Pasquale Trocino. L'esplosione è avvenuta intorno alle 5 del mattino e sono andate distrutte alcune vetrate. NFO ha rivendicato l'attentato. Ancora cronaca chiedevano il pizzo a commercianti di Aversa, Lusciano e Parete pretendendo cifre che andavano dai 500 ai 3000 euro in coincidenza delle festività di Natale, Pasqua e Ferragosto. In manette sono finite 10 persone ritenute affiliate al clan dei Casalesi, fazione Bidognetti. Il pizzo ha diversi commercianti della zona compresa tra Aversa, Lusciano e Parete pretendendo cifre che andavano dai 500 ai 3000 euro in coincidenza delle festività di Natale, Pasqua e Ferragosto. Con l'accusa di estorsione aggravata dal metodo mafioso i carabinieri del reparto territoriale di Aversa, guidati dal tenente colonnello Vittiero Carrara, hanno tratto in arresto 10 persone su disposizione del GIP del Tribunale di Napoli su richiesta della DDA. Alcuni degli indagati risultano affiliati alla fazione Bidognetti del clan dei Casalesi, 5 di questi erano già in carcere. Numerose le estorsioni accertate che riguardano gli anni che vanno dal 2007 al 2011. Agli arresti sono finiti Raffaele Cirillo, Lorenzo Tamburrino, Giuseppe Barbato, Renato Piccolo, Bartalomeo Vitiello, Luigi Chianese, Pietro Chianese, Vincenzo Di Sarno, Francesco Chianese e Domenico Di Martino. Tutti accusati di associazione a delinquere ed estorsione aggravata. La sfida del futuro della città di Salerno tra urbanistica e rilancio del turismo se ne è parlato nel convegno a Palazzo Sant'Agostino organizzato dalla Fondazione Lumina e dal gruppo Otto Media. Ascoltiamo allora gli interventi dell'Avvocato Reste Vigorito e di Roberto De Luca, consulente economico della provincia di Salerno. Questa città non è bella come la Roma imperiale. Forse non è nemmeno bella come la Benevendo Sanita o come la Napoli greca, romana e oggi partenopea. Forse anche più bella. Non lo so. Chi ha immaginato questa città del futuro ha immaginato che si può essere belli anche senza avere le mura a Longobarde o il Colosseo. La parte infrastrutturale e strutturale di una città, di un agglomerato urbano diventa un asset importante del suo sviluppo se pensato in maniera consapevole. Qui abbiamo avuto un esperimento felice in cui si è parlato dell'architettura, si è parlato di tutto quello che è stato messo in campo, ha avuto come obiettivo fondamentale quello di creare effettivamente delle opportunità turistiche. Diceva l'Avvocato Vigorito, probabilmente dal nulla perché non avevamo il patrimonio che hanno altre città. Qui mi viene in mente c'era una citazione di Gianni Brera, il quale diceva che, parlando credo di Roberto Baggio, diceva ci sono i giocatori che vedono lo spazio facile, lo hai visto anche tu, quelli che vedono lo spazio che tu avresti visto se fossi stato più attento, poi ci sono quelli che lo spazio lo creano. Ecco, questo è avvenuto in questi anni in questa città. La corsa sindaco di Napoli perde punti Luigi De Magistris che però resta primo in un sondaggio commissionato dal Il Mattino, crescono Lettieri e Valeria Valente ma l'astensionismo resta il primo partito in città. Gianni Lettieri in recupero su Luigi De Magistris, anche Valeria Valente in crescita ma resta terza. Sono i numeri che restituisce il sondaggio di Euromedia Research commissionato da Il Mattino nella corsa sindaco di Napoli. Nel rilevamento di due mesi fa De Magistris schiacciava tutti con il 39,1%, oggi è al 35,5%. Il candidato di centrodestra sale al 25% e la Valente al 21%. Più staccato il grillino Brambilla al 16% che perde quasi sei punti percentuale rispetto a febbraio. Fuori dai giochi taglia la tela in Mercogliano, ritirato Enzo Rivellini che appoggerà Lettieri. A spaventare il dato del 46,4% di intervistati che si divide tra chi risponde che non andrà a votare il 18,6% e chi si dichiara ancora indeciso il 27,8%. Numeri che confermano che l'astensionismo resta il primo partito in città. Nel calo registrato da De Magistris influisce non poco anche lo scontro con il premier Renzi su Bagnoli. Il 43% infatti non ha condiviso il ricorso al TAR del sindaco contro il commissariamento per la bonifica nella scelta di disertare la cabina di regia. Il sondaggio ha interrogato i napoletani anche sulle caratteristiche che dovrebbe avere il sindaco ideale di Napoli. Al primo posto c'è l'onestà, al secondo l'amore per la città e il senso di appartenenza. Poi nell'ordine competenza amministrativa, determinazione, cultura e solo al 5,9% l'esperienza politica. Le interviste sono state realizzate su un campione di mille unità e fotografano gli orientamenti elettorali a quattro giorni dal deposito delle liste. Ora toccherà alla campagna elettorale confermare o sovvertire questi pronostici. E ancora polemiche su Bagnoli tra Renzi e De Magistris. Al sindaco ho detto la bonifica Bagnoli la fai tu? Lui mi ha risposto no e allora io l'ho commissariato e la bonifica la faccio io perché Bagnoli è un potenziale attrattore di ricchezza internazionale. Così il presidente del Consiglio Matteo Renzi, ospite questa mattina di RTL 125, aggiungendo ci sono cose che vanno fatte, ci sono quelli che chiacchierano e quelli che invece le cose vogliono farle io voglio stare nella seconda categoria. Accusati di due efferati omicidi avvenuti nel gennaio del 2012, oggi la squadra mobile di Napoli ha arrestato sette persone vicine al clan Vanella Grassi. Gli arresti grazie alla collaborazione dei pentiti. Paola Iandolo. Colpa al clan Vanella Grassi. La polizia di Stato ha eseguito sette ordinanze di custodia cautelare in carcere. Le persone arrestate sono ritenute a vario titoli responsabili dei reati di sequestro di persone, omicidio aggravato, apporto e detenzione illegale di armi, distruzione di cadavere. Secondo la DDA di Napoli, gli arrestati sono responsabili della morte di Raffaele Stanchi e Luigi Montò, avvenuto l'8 gennaio del 2012. Gli arresti sono stati possibili grazie alla collaborazione di alcuni pentiti che hanno deciso di collaborare con le forze dell'ordine. Sono stati loro che hanno contribuito alla ricostruzione degli efferati omicidi. All'interno di un'auto completamente carbonizzata vennero ritrovati i corpi dei cadaveri dei due uomini uccisi a colpi di arma da fuoco. A una delle due vittime, prima del colpo di grazia, i killer avevano tagliato la mano destra perché l'uomo, torturato, mutilato e poi assassinato insieme al suo autista, rispondeva al nome di Raffaele Stanchi, contabile gestore della piazza di spaccio per conto degli amato pagano. Amante della bella vita e delle frequentazioni VIP, Stanchi aveva gestito per anni il fiume di denaro garantito da uno dei polmoni più redditizio del cartello scissionista, in quel momento già scosso dalle prime avvisaglie dello scontro esploso già in quegli ultimi mesi. Ma il contabile, secondo la ricostruzione investigativa, aveva sottovalutato l'ascesa dei cattivi ragazzi della Vanella Grassi, un gruppo rimasto fino a quel momento confinato in un fazzoletto di territorio nel quartiere di Secondigliano. A loro Stanchi non aveva pagato un'ingente partita di droga, ritenendo, scrive la procura, che un'azione del genere non avrebbe avuto alcuna conseguenza per lo scarso rilievo criminale che il navigato malavitoso attribuiva ai giovani della Vanella. Si sbagliava invece. Stanchi verrà sequestrato insieme al suo autista Luigi Montò e con lui ucciso dopo il macrabo taglio della mano destra. Un omicidio efferato, evidenziano gli inquirenti, che non si traduce solo in un colpa al cuore del clan. Continuano le accuse tra i palazzoni del Parco Verde di Caivano sulle morti di Fortuna Loffredo e Antonio Giglio. Se ieri la sorella del presunto orco accusava della morte del piccolo Antonio, la madre, Marianna Fabbozzi, oggi parla la nonna dicendo mia figlia è innocente. E intanto dal carcere di Poggio Reale Raimondo Caputo, l'orco di Fortuna, il presunto orco, denuncia i suoi aggressori in cella. Avevano tentato di linciarlo sabato a Poggio Reale. Simone Tagli e Pariello. Se è stato titò da ammazzare Fortuna fa bene ad impiccarsi, lo ha detto Marianna Fabbozzi alla mamma, Angela Angelino. Poi la donna, accusata di aver coperto il suo compagno, ha subito aggiunto, ma io non credo che sia stato lui. Quel giorno non era in casa, era in giardino con la figlia che abbiamo avuto insieme, Raffaella. Si tinge sempre più di giallo il caso di Caivano e Angela Angelino, la nonna di Antonio e delle tre bambine violentate, dopo giorni di silenzio assoluto, accetta di spiegare il punto di vista della famiglia Fabbozzi, finita nell'occhio del ciclone. Secondo la donna, sua figlia è innocente. La donna è ora accusata dalla sorella di Raimondo Caputo, il presunto orco, di aver lanciato lei stessa suo figlio Antonio Giglio per vendetta contro il convivente. 14 mesi dopo Antonio è morta Fortuna e in quel caso si è trattato di un assassino. Mia figlia mi ha raccontato che quando Fortuna si è allontanata da casa, nessuno l'ha seguita, ma proprio l'amichetta del cuore, da un'altra versione. Con Chicca si era allontanato Tito, che ora è accusato di omicidio e violenza sessuale sulla piccola Fortuna. Lo incastrano proprio le dichiarazioni delle tre figlie di Marianna Fabbozzi, allontanate dal Parco degli Orrori e decisive nelle indagini sulla morte di Chicca. Intanto dal carcere di Poggio Reale Caputo accusa i suoi aggressori in cella. Avevano tentato di linciarlo lo scorso sabato. Tra loro c'è anche il 26enne di Pianura che tentò di seviziare un ragazzino con un estintore perché era obeso. Ci sono anche le province di Napoli, Salerno, Caserta, Avellino. Tra quelle coinvolte in una vasta operazione della Polizia di Stato coordinata dalla Procura Distrettuale di Catania contro un'associazione a delinquere finalizzata alla raccolta illegale di gioco d'azzardo online che gestiva un imponente giro d'affari. Agenti della Polizia Postale stanno eseguendo un'ordinanza di custodia cautelare emessa dal GIP Etneo, oltre a compiere perquisizioni e a notificare avvisi di garanzia in un'inchiesta con oltre un centinaio di indagati. L'operazione denominata Masterbet interessa anche le province di Catania, Ragusa, Messina, Siracusa, Palermo, Agrigento, Caltanissetta, Trapani, Cosenza, Cagliari, Foggia, Brindisi, Milano, Roma e Venezia. A Salerno mattinata di tensioni in via dei Greci durante l'inaugurazione del nuovo tratto stradale davanti al centro commerciale Le Cotoniere. Il governatore De Luca e il candidato sindaco di Napoli Gianni Lettieri sono stati costretti ad annullare la cerimonia a causa delle pesanti contestazioni dei comitati ambientalisti. Vediamo com'è andata. Protesta con striscioni, slogan e mascherine all'inaugurazione di via dei Greci questa mattina davanti al nuovo centro commerciale Le Cotoniere. Erano presenti l'imprenditore e il candidato sindaco a Napoli Gianni Lettieri, il presidente della regione Campania Vincenzo De Luca e il sindaco Vincenzo Napoli con diversi assessori. La conferenza stampa prevista all'esterno è stata tenuta all'interno per evitare contatti con i manifestanti che avevano pronte delle uova da lanciare. Si tratta degli ambientalisti del comitato salute e vita. Da anni si battono contro l'inquinamento dell'area per la delocalizzazione delle fonderie Pisano. De Luca e Lettieri sono stati fatti uscire da una porta secondaria. Loro dovrebbero prendersi con le fabbriche che stanno ancora in vita. Qua è stata eliminata una fabbrica che non inquinava perché c'è un impianto di depurazione di tutto rispetto. È uno dei più importanti impianti di depurazione che è stato mai fatto nel mezzogiorno, quindi neanche prima inquinava. Però mi rendo conto che poteva dare fastidio. La scelta dell'amministrazione è fare al posto di una fabbrica un parco. Questo non è un centro commerciale, questo è un parco. All'interno del parco ci sono anche 15.000 metri a parco a verde, un parco Robinson dove giocano i bambini, una parte a roof e una strada, un percorso sul fiume, sul lungo Irno per godersi quella che è stata la bonifica del fiume. Per cui mi sembra veramente una cosa fuori luogo. Non sanno neanche di cosa parlano. Nell'ambito del programma di riqualificazione urbanistica di quest'area è prevista anche la delocalizzazione della fonderia Pisano. Ovviamente siamo impegnati anche in questa direzione. Credo che alla fine sarà bonificata tutta l'area nord della città e creeremo anche nell'ingresso in città della Valle dell'Irno una porta di grande dignità urbana come abbiamo fatto da altre parti. Il dramma lavoro in Irpinia adesso tra scioperi e proteste, Elital e diagnostica medica. I lavoratori protestano perché la cassa integrazione e gli stipendi non arrivano da mesi. Vediamo. Elital e diagnostica medica, avvertenze sindacali aperte in Irpinia con i lavoratori sul piede di guerra. La fabbrica di piano d'ardine della famiglia pugliesi ormai ha un passo dalla chiusura e i dipendenti non percepiscono la cassa integrazione da settembre. Pugliese è inesistente oramai, quindi sta azienda oramai e non credo che ci siano più i presupposti perché possa riaprire i battenti. La questione è l'utilizzo degli ammortizzatori sociali non perché vogliamo essere sanguisughe dello Stato italiano, anche perché la cassa integrazione viene pagata dai lavoratori. Noi non stiamo chiedendo nulla che non sia il nostro, sia come occupazione che come retribuzione. Al momento la fabbrica è ferma e ci sono delle macchine a controllo numerico, cioè i robot gestiti da computer, che senza una manutenzione adeguata potrebbero poi non essere funzionanti. Siamo un po' disperate in quanto non percepiamo niente e penso che dopo otto mesi, non so se mi spiego insomma. Sul fronte della diagnostica medica sono cinque mesi senza stipendio e manca ancora il rinnovo del contratto. Altissima al 98% l'adesione allo sciopero di oggi che ha ricevuto la solidarietà dei colleghi della clinica Malzoni che fanno capo allo stesso gruppo aziendale. Noi anche ieri abbiamo detto all'azienda che siamo pronti a discutere di un accordo di crisi, ma una volta che la diagnostica medica mantiene i patti che con noi aveva fatto un mese fa e c'è uno stipendio corrente, uno arretrato da pagare, dopodiché ci sentiamo un tavolo e ragioniamo. Ci vogliono cambiare il contratto dopo che noi abbiamo rinunciato a 6.000 euro di incentivi alcuni anni fa. Siamo stanchi, il fatto è che noi siamo persone serie e responsabili, non siamo mai mancati un giorno pur non percependo stipendio da mesi. Io ho la famiglia, sono quattro componenti a casa, faccio 40 km per venire a lavorare e sono cinque mesi che non mi pagano. Sembra che ci sia uno spiraglio da noi in clinica, mi sciaguriamo che anche per la diagnostica si possa risolvere positivamente. Dalla costiera amalfitana arriva un durissimo atto d'accuso alla procura di Salerno che in queste settimane ha sequestrato decine di impianti di depurazione in vari comuni. La costiera si ribella e teme che le azioni della magistratura possano danneggiare il turismo sul territorio. Giovanni Battista Lanzilli. Il progetto per un depuratore consortile c'è e l'elaborazione è in fase avanzata, ma allo stesso tempo gli amministratori della costiera amalfitana non ci stanno a passare per inquinatori senza scrupoli. Ai microfoni di 8 Channel l'assessore ai lavori pubblici di Maiori, Chiara Gambardella, ribadisce l'impegno per la tutela delle acque del territorio. È innegabile che in costiera amalfitana il problema della depurazione esista, però è altrettanto innegabile che noi stiamo mettendo in campo tutta una serie di strumenti per chiudere qualsiasi, per fugare qualsiasi dubbio perché noi ci teniamo ad avere il depuratore. Ci stiamo attivando con la provincia di Salerno a costruirne uno. Io penso che ci sia anche un accanimento mediatico sulla costa d'Amalfi perché grazie a Dio in questi ultimi anni il turismo sta ritornando alla grande sull'intera costiera amalfitana e il mio paese ne è un esempio tipico. Allo stesso tempo però l'esponente dell'esecutivo non lesina durissime critiche all'indirizzo della procura salernitana che in queste settimane ha avviato una campagna di sequestri a tappeto di numerosi impianti di depurazione in tutta la costiera amalfitana. Noi ci stiamo attivando e il depuratore lo faremo e lo faranno ma credetemi i depuratori non sono il toccasana della costa d'Amalfi bensì è più un problema credo politico e consentitemi di magistratura che ama mettersi in mostra che però poi non segue gli escursus sul territorio. Io sono sicura e parlo per tutti i comuni che a me associati, maioni, minori e tramonti a breve ci sarà una svolta per il depuratore ma ci lasciassero lavorare in santa pace senza all'inizio della stagione turistica tediarci con questi problemi. La tragedia di Montella in Irpinia dove ieri è morto un operaio in un cantiere si poteva evitare così Antonio Famiglietti, segretario organizzativo della CGL Avellino riapre il dibattito sulla sicurezza nei luoghi di lavoro. A livello provinciale chiedo subito un tavolo con il prefetto per la prevenzione e poi il governo introduca il reato di omicidio colposo sul lavoro. Rocco Fatibene. La morte di Raffaele Musto, l'operaio cinquantenne di Contrada schiacciato da una frana a Montella in un cantiere stradale riapre il dibattito sulla sicurezza nei luoghi di lavoro. Durissima la posizione di Antonio Famiglietti. Noi diciamo in maniera molto chiara che era sicuramente una tragedia che poteva essere tranquillamente evitata con le dovute misure di prevenzione. Famiglietti va oltre la denuncia e chiede al prefetto di Avellino l'immediata convocazione di un tavolo di confronto sui temi della prevenzione. Non è stato mai convocato che faccia un'azione di coordinamento per fermare questo declino che c'è dal punto di vista della sicurezza e delle condizioni di lavoro non solo in edilizia ma in tutti i settori. La prevenzione però da sola non basta, occorre anche la sanzione. Ecco perché la Cigelle Avellino invita il governo ad introdurre novità normative per ridare dignità a chi ha perso la vita sul posto di lavoro. Dando la Costituzione di parte civile come lo facciamo in tutti i processi che riguardano questo tipo di incidenti sul lavoro. Il governo per dare dignità al lavoro e per fermare questa catena di incidenti che ne sono sempre tanti e sempre di più praticamente di inserire il reato di omicidio colposo. Monta la rabbia degli automobilisti sanniti a causa delle pessime condizioni in cui versano le principali arterie di collegamento con la provincia, la Telesina e la Sannitica. Quest'ultima continua ad essere interessata da una frana che costringe l'ANAS a chiuderla a causa del maltempo. Sulla Telese Caglianello i cittadini stanno organizzando un corteo di protesta contro il limite di velocità di 60 km orari. Andrea Caruso. A 60 km orari sulla statale Telesina un gruppo di coraggiosi automobilisti sanniti accetta la sfida e si organizza per creare un serpentone di veicoli che sabato mattina percorrerà l'arteria che da Benevento conduce al casello autostradale di Caglianello rispettando il limite di velocità imposto dall'ANAS a causa delle disastrosi condizioni del manto d'asfalto. Facile prevedere l'esito, ossia una lunga coda di auto che paralizzerà il traffico generando snervanti imprecazioni da parte di chi ha il volante. La clamorosa iniziativa servirà ancora una volta ad accendere i riflettori su una strada dove i famigerati autovelox stanno mietendo parecchie vittime a causa del bassissimo limite di velocità e dove gli unici a gongolare sono i comuni che passano all'incasso dei verbali di violazione al codice della strada. Non va meglio sulla statale 87 Sannitica, aperta e chiusa ad intermittenza e per fasce orarie a causa della frana collocata ai lati della carreggiata. Ogni acquazzone ne comporta la chiusura, il monitoraggio da parte dei geologi dell'Unisannio e il solito tampone di rimuovere con le ruspe la terra adiacente l'arteria senza intervenire strutturalmente a monte dove si originano gli smottamenti sta facendo perdere la pazienza a pendolare i cittadini di Fragneto Monforte costretti a veder sfilare auto e mesi pesanti nel centro storico del piccolo paese Sannita. Una situazione paradossale per il sindaco Caputo che non esclude nuove vehementi proteste e auspica anche un intervento da parte della magistratura. Non ho mai visto monitorare una frana giusto in mezzo alla strada, non tre in mezzo e più sopra, non ho mai visto che si fanno dei lavori poco prima e poco dopo e non si scopre la frana. Cioè sono quattro anni e mi rendi conto che alla provincia di Benevento, isolata dal Molise, soprattutto l'assoluta inadeguatezza di questi personaggi che stanno governando la situazione, sarebbe opportuno che anche l'istituzione facesse delle indagini accurate su perché stanno facendo questa nonplina comica. Se non fosse per i danni che stanno creando sarebbe da ridere. Il piano ospedaliero, parliamo di sanità, l'Irpinia ne uscirà rafforzata. Buone notizie per Ariano, il frangipane presto sarà dotato della radioterapia. Ne parla con soddisfazione il vicepresidente regionale della Commissione Sanità, Enzo Alaia. Sentiamo Gianni Vigoroso. L'ospedale frangipane di Ariano Irpino si candida a pieno titolo a diventare una struttura modello di eccellenza in campagna, potenziamento del personale, attivate nuove convenzioni e migliorate le strutture già esistenti. Presto diventerà realtà la radioterapia. Ne parla fiducioso il vicepresidente regionale della Commissione Sanità, Enzo Alaia, giunto ad Ariano Irpino a Palazzo di Città. Io sono molto fiducioso per la realizzazione, per la costruzione e quindi l'installazione di una radioterapia qua. Un po' con il pressing mio e di altri colleghi sono convinto di riuscire a portare a casa questo risultato. In questa fase importante serve la collaborazione dei medici, dei cittadini e delle associazioni. Questa la richiesta formulata dal sindaco Domenico Gambacorta durante il Consiglio Comunale. Tanti sforzi sono stati già fatti, ha detto il commissario ASL Mario Nicola Ferrante, ma ora anche la politica dovrà fare la sua parte difendendo i propri territori fino a far diventare il sistema sanitario qualitativo in tutta l'Irpinia. Ci sono buone prospettive, penso che è un territorio che deve crescere e che crescerà, che ci sono prospettive dal punto di vista sanitario, che gli ospedali potranno migliorare in un'aggregazione territoriale. Due anni fa il ferimento di Ciro Esposito prima della finale di Coppa Italia Napoli-Fiorentina. Ieri i tifosi del Napoli hanno ricordato con Fumogeni e Bengala sul lungomare il tifoso azzurro, morto poi dopo quasi due mesi di agonia. Bengala e Fumogeni sul lungomare di Napoli in memoria di Ciro Esposito. Ieri sera 500 tifosi azzurri si sono dati appuntamento a Via Caracciolo. Per ricordare il tifoso del Napoli che rimase gravemente ferito esattamente due anni fa, il 3 maggio 2014, a Roma, mentre era diretto allo Stadio Olimpico per assistere alla finale di Coppa Italia tra Napoli e Fiorentina. Fu raggiunto da un colpo di pistola esploso dall'ultraromanista Daniele De Santis. Ciro morì al Policlinico Gemelli dopo 54 giorni di agonia. Una manifestazione silenziosa, quella ideata dai tifosi azzurri, che poi hanno acceso diversi fumogeni ai limiti delle ringhiere della rotonda di IAZ. Gli ultras del Napoli non dimenticano, hanno conventato i partecipanti al raduno, che hanno deciso di commemorare il giovane Ciro in compagnia della madre del ragazzo, Antonella Leardi. 3 maggio 2014, 3 maggio 2016, Ciro vive e canta insieme a noi. Questo è il ricordo pubblicato dalla pagina Facebook Associazione Ciro Vive, voluta fortemente dalla signora Leardi, che ha lasciato sul social anche il suo personale messaggio. Napoli è fatta di persone come me, ce ne sono tante. Basta parlare male di Napoli e di Scampia. Basta discriminazioni su questa città. Ieri intanto a Roma si è tenuta una nuova udienza del processo nei confronti di Daniele De Santis, in cui hanno preso la parola gli avvocati Angelo e Sergio Pisani. La sentenza del processo penale è prevista il 24 maggio. I PM hanno chiesto l'ergastolo per il romanista, accusato dell'omicidio di Esposito. Ed è tutto per l'edizione delle 14, vi lascio al TG Sport, poi alle 15 a seguire una nuova edizione in diretta del nostro telegiornale. Arrivederci.